Perché lei dipinge? Dipingo principalmente per non pensare. Una sorta di meditazione? Quando dipingo smetto di pensare. Di pensare a cosa? Allora, smetto di pensare e sento che io sono parte di ogni cosa che è fuori e dentro di me. Volevo così tanto condividere ciò che vedo. Un artista? Sì? Ah, io pensavo che un artista dovesse insegnare come guardare il mondo. Ma ora, questo non lo penso più. Adesso riesco solo a pensare al mio rapporto con l'eternità. Cosa intende lei per eternità?